I lavori di riqualificazione del Media Museum e di Piazza Alessandrini a Pescara dopo una lenta partenza, cantiere chiuso dallo scorso 10 giugno e tempi di riconsegna che si dilatano. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Qual è lo stato dell'arte? Perché i lavori sono interlotti al momento. In questo momento sono interlotti, abbiamo un'interlocuzione con l'impresa perché quei lavori sono molto complessi, perché si tratta di mettere in sicurezza l'edificio che ha problemi seri di staticità e quindi gli interventi che sono stati fatti fino ad oggi hanno riguardato l'inserimento nel terreno di pali fino a 40 metri di profondità per collegarli con il fabbricato e per dare stabilità a una struttura che aveva seri problemi. Adesso l'intervento deve passare sulla piazza, l'impresa sta facendo i conteggi perché ha dovuto rivedere delle questioni proprio perché gli interventi statici hanno comportato una spesa notevole. A segnalare il problema la Presidente della Fondazione Tiboni e dell'Associazione Ennio Flaiano che ai nostri microfoni si è espressa così. Guardi, io non so cosa sia accaduto perché a noi non è mai stato detto nulla, se non che dal 10 di ottobre 2023 ci era inibito l'accesso alla struttura. Una situazione di estremo disagio, potremmo dire così, per così sintetizzare. Direi di estremo abbandono visto che non ci sono più nemmeno i macchinari, c'è stata una decantierizzazione e non sappiamo nulla insomma del Media Museum. Però vorrei anche dire che il trasferimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno è avvenuto da oltre due anni, i lavori sono cominciati con estremo ritardo e francamente non abbiamo nemmeno delle date certe in cui i lavori finiranno. Si parlava di nove mesi, ottobre scorso chiaramente non ci si riuscirà a completare. Io sono preoccupata perché per due mila similitudine ma non vorrei che il Media Museum facesse la stessa fine del teatro d'annunzio che è versa in uno stato completo di abbandono. Le difficoltà devono essere superate ma noi le superiamo sapendo che l'obiettivo finale è quello di dare stabilità a un fabbricato storico della nostra città e restituire alla città una piazza che aveva perso già da qualche decennio il suo decoro e la sua dignità.